Il incidente mortale è sabato sera alle 22 sulla strada provinciale 20 a perdere la vita un bracciante agricolo rumeno di 42 anni. L'uomo che viaggiava a bordo del suo scooter pare sia morto sul colpo dopo lo scontro contro un'auto. Sicurezza strutturale dei ponti nel nostro territorio. Il sindaco di Modica Ignazio Abbate dichiara che quanto c'era da fare sul viadotto Guerriere è stato fatto relativamente agli altri ponti. Chiede una conferenza di servizio per fare il punto. Non sono ancora operativi i nuovi medici che dovranno prendere servizio presso il centro di urna alzheimer al posto degli operatori che hanno prestato servizio per 4 anni. Intanto i familiari incontrano il direttore dell'edità operativa Virzi. Boom di ascolti per i festeggiamenti per Miss Contea. La serata finale si è svolta ieri a Modica e l'Ectel Miss del 2018 che è anche la prima edizione. Vi sveleremo i nomi. Buon pomeriggio. Ben trovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione di MTG. In apertura, lo avete sentito dai titoli, ancora un'altra vittima sulle strade. Incidente mortale, infatti sabato sera intorno circa alle 22 sulla strada provinciale 20 in territorio di Comiso. Si tratta della vittima, si tratta appunto di un rumeno bracciante agricolo deceduto sul colpo dopo lo scontro violento contro un'auto. Il secondo sinistro mortale nel giro di neanche due settimane. Viviana Sammito. Rumeno, 42 anni, bracciante agricolo, è la seconda vittima sulle strade Ible in neanche due settimane dopo i due 18 anni di Santa Croce e Camerina, Mirko Socmani e Francesco Arrabito. Anche il rumeno, come due giovani, è morto in sera a uno scooter 50 dopo aver impattato con violenza contro una BMW che procedeva dallo stesso senso di marcia. Il sinistro mortale si è verificato intorno alle 21 sulla strada provinciale 20 da Comiso, conduce a Santa Croce e Camerina. Il 42enne non è morto sul colpo e il 118 l'ha trasportato ad urgenza in ospedale dove è deceduto intorno alle 22. Sono intervenuti i carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente e l'eventuale irresponsabilità. Gli atti sono stati consegnati in procura. Sarà la magistratura Ible a iscrivere sul registro degli indagati il conducente della BMW con l'ipotesi di reato di omicidio stradale per atto dovuto. Secondo quanto è stato accertato, lo scooter con a bordo la vittima viaggiava al centro della carreggiata e con una luce fioca. L'impatto è venuto durante la fase di sorpasso. La salma è già stata consegnata ai familiari che sono arrivati dalla Romania in queste ore. La vittima viveva sola a Randello, zona di Scoglitti. Ieri, poco prima delle 13, si è registrato un altro incidente stradale sulla strada provinciale 25 in territorio di Ragusa. Tre auto si sono scontrate mentre stavano proseguendo verso Marina di Ragusa. Tra i feriti, la più grave è una donna ragusana di 62 anni, conducente di un Audi, mentre il passeggero 26 nel ragusano e i conducenti delle altre due auto, una pozzalese di 48 anni e uno scelitato di 25, guariranno in una settimana. Le indagini sono della polizia stradale. Sicurezza strutturale dei ponti che insistono sul nostro territorio. La tragedia avvenuta in Liguria ha alzato il livello di sensibilità sul tema. Il sindaco di Modica, Abbate, dichiara che quanto c'era da fare sul viadotto Guerrieri è stato fatto. Per quanto riguarda le altre strutture, invece, sarà convocata una conferenza di servizio. Il servizio di Marco Scavino. L'autostrada come alternativa per il potenziamento della sicurezza, facendo decongestionare le nostre strade, un tavolo tecnico ed una conferenza di servizio, il tutto sui ponti. Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, chiederà degli incontri specifici con la provincia, con l'ANAS e con tutti gli enti preposti al controllo e al monitoraggio delle nostre strade. L'obiettivo, ha detto il primo cittadino ai nostri microfoni, è potenziare già quanto fatto. Il Guerrieri è stato recentemente oggetto di intervento, ma nuovi interventi, anche se meno importanti, vanno fatti. Il sindaco chiederà anche un briefing sul viadotto Nino Avola. Tante invece intervenire su altri viadotti, non tanto quelle dell'ANAS, che sappiamo che bene o male c'è una struttura che li va a controllare, ma i viadotti di proprietà della provincia e dell'ANAS e dell'ASI, specialmente nella zona industriale di Pozzallo, e tutti quei ponti che sono stati cavalcavia, che sono stati costruiti, non sono stati mai monitorati. Per quanto riguarda il viadotto Nino Avola, che è stato di costruzione sicuramente più recente rispetto agli altri, chiederemo alla provincia di fare un intervento, quantomeno in questo momento, di andare a controllare anche con dei sensori per vedere se sia necessario degli interventi. Però noi stiamo intervenendo invece su un nostro viadotto, un cavalcavia di nostra competenza, che è quella della Caitina, è già stata appaltata e quindi stiamo lavorando con quanto riguarda la sicurezza, con l'Enel ed un attraversamento di un cavo elettrico della 20.000 che deve essere spostato, dove di che incomincieremo subito i lavori, che già da 60 giorni sono stati appaltati e quindi siamo pronti per partire. L'autostrada è l'unica alternativa, fino a Gela, l'alternativa su quella che è l'ex statale SS115, e quindi anche per togliere peso e pressione su tutte quelle strutture che sono nate, ahimè, in quegli anni dove la pressione era inferiore, quindi progettati per una pressione inferiore rispetto a quella attuale. Il Costanzo non è di competenza sua, il Costanzo ricade comunque sul territorio di Ragusa, ma sappiamo benissimo che il ponte Costanzo è frequentatissimo da Modicani e non solo, perché è la bretella di collegamento nuova tra Modica e Ragusa. Capisco che uno si deve occupare anche di tante altre cose e questa è la mia vondanna, però su questo, nell'incontro che faremo con l'ANAS, parleremo anche di tutto quello che riguarda la ricompetenza dell'ANAS sul territorio della nostra provincia. Calendarizziamo, ci sono dei tempi? I primi di settembre. In questo punto invece parliamo del tema immigrazione, perché la nave 18 della Guardia Costiera, dopo giorni in rada davanti alla costa di Lampedusa, con a bordo 177 migranti, è irrotta verso la Sicilia, come riporta l'ANSA, che aggiunge che si starebbe dirigendo verso il porto di Pozzallo. Tuttavia la capitaneria di porto del porto di Pozzallo da noi, contattata, ha dichiarato di non essere al corrente di nessuna comunicazione ufficiale riguardante uno sbarco a Pozzallo, pur essendo a conoscenza del fatto che la nave si stia procedendo irrotta verso la Sicilia. Ciò non significa necessariamente che sbarcherà qui, come dichiara il capitano Ottoniazioni. Intanto sulla pagina, sulla propria pagina Facebook, il ministro dell'interno Matteo Salvini scrive Dopo mesi di chiacchiere ci aspettiamo che anche Bruxelles passi dalle parole ai fatti. Salvini inoltre pubblica i risultati di un sondaggio lanciato su Sky TG24 relativamente al portare o meno in Libia i migranti presenti a bordo della nave. Il sondaggio riporta l'81% dei consensi. Di contro su Twitter sono molte le prese di posizione di associazioni, ONG e cittadini, con l'hashtag fateli scendere. E andiamo avanti tornando a parlare della vicenda relativa all'organizzazione dell'estate pozzallese perché sabato scorso vi avevamo dato una notizia relativa al comunicato, in un servizio del comunicato relativo alla nota stampa pubblicata dagli consiglieri di opposizione. Invece non tarda ad arrivare la replica del sindaco Amatuna che dice i numeri parlano chiaro, l'estate a Pozzallo va a gonfie vele. E i dettagli in questo servizio. Rimanda le accuse al mittente il sindaco di Pozzallo, Roberto Amatuna, criticato dai consiglieri di opposizione sull'organizzazione dell'estate pozzallese. Avevano scritto sul senti e toscano che l'estate pozzallese era stata un flop in un comunicato stampa diffuso sabato. Il primo cittadino parla con dati alla mano, rispondendo punto per punto a ciò che era stato detto. Amatuna sottolinea che dal primo gennaio a oggi sono 5.860 gli arrivi, un aumento di circa il 10% rispetto allo stesso periodo lo scorso anno, quando gli arrivi erano 5.350. Incremento anche per le presenze, 17.100 le presenze del 2018, contro le 15.000 dello scorso anno nello stesso periodo. Quest'estate è stato un grandissimo successo. Ritengo che noi dobbiamo guardare i dati. I dati per esempio sono questi, quelle del booking, quelle del booking dell'altro ieri in cui c'è un 99% di esaurito a Pozzallo. Poi vi sono le fotografie, fotografie che parlano chiaro. Pozzallo è stata invasa dai turisti in maniera enorme come non si vedeva da tantissimi anni. Per quanto riguarda poi la Sagra del Pesce, sulla qualità nessuno ha parlato. Forse è stata la Sagra del Pesce con la più alta qualità di cibo. I dati parlano chiaro. Noi abbiamo anche dei dati bancari. In questi mesi i depositi bancari nella nostra città sono aumentati del 10%, che è una cifra enorme. Gli investimenti sono aumentati dal 5% al 5%. Questo quindi è un segno di vitalità, è il segno di una città che risorge, che sta risorgendo, che vuole ritornare agli antichi e ai fasti, così come abbiamo promesso ai cittadini di Pozzallo. E chi scrive queste cose ha avuto l'opportunità di governare Pozzallo, come Peppe Sulsendi, e sono stati gli anni più bui dal dopoguerra ad oggi. Ha determinato più di 20 milioni di residui passivi. L'altro consigliere, che forse è in ferie, quindi non sa che cosa firma, ha caratterizzato sempre la sua opera come nemico di Pozzallo. Quindi ha cercato sempre di sporcare all'immagine della città. Noi non ne permetteremo a questi personaggi, che mai sono i margini della società civile pozzallese, di far danno alla nostra amata Pozzallo. Non glielo permetteremo noi, ma non glielo permetteranno i cittadini di Pozzallo. Da un comune balneare della nostra provincia ci spostiamo in un comune montano. Giochi, arte, maschere, gusto, divertimento e buon cibo di strada. Tutto questo è zuppa per tutti. La manifestazione giunta alla terza edizione, che si terrà proprio a Chiara Montegulfi il 31 agosto e il 1 settembre. Quest'anno gli organizzatori hanno scelto come tema la disabilità. Carmela Minarto. Far assaporare tutto ciò che bolle in pentola. Una miscellanea di sapori, divertimento, giochi, maschere e arte sarà protagonista nel centro storico di Chiara Montegulfi, nel weekend compreso tra il 31 agosto e il 1 settembre prossimo. Torna anche quest'anno la manifestazione giunta alla terza edizione, zuppa per tutti. Oggi i dettagli dell'evento sono stati presentati nel corso di un incontro con i giornalisti nel centro di Urno San Giuseppe. La Kermess è organizzata da 20 associazioni chiaramontane, facenti parte della consulta dei giovani ed il Consorzio Chiaramonte, che ogni anno si spendono per presentare due giorni carichi di emozioni. Il tutto grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale e all'indispensabile partecipazione di tutte le attività commerciali del territorio. Tema di quest'anno la disabilità. Il sindaco di Chiara Montegulfi, Sebastiano Gurrieri, oggi ha annunciato che il Comune ha disposto la somma di 10.000 euro per rendere accessibile Palazzo di Città anche ai disabili in carrozzina, mentre Giovanni Brafa, della cooperativa Esistere, ha chiesto che parta da Chiara Montegulfi una cabina di regia per affrontare le problematiche dei disabili. Abbiamo voluto quest'anno dare questo tema e quindi lanciare questo slogan, zuppa per tutti, proprio perché vogliamo dare l'accessibilità, l'aggregazione e vogliamo mettere in mostra le abilità dei ragazzi disabili presenti nel territorio. Questo è quello che vogliamo fare, questo è il messaggio che vogliamo lanciare quest'anno. In Italia ed in particolar modo le regioni del sud, le persone con disabilità spesso sono relegate ai margini. È un'iniziativa come zuppa che si pone il fine dell'integrazione valorizzando quelle che sono le abilità nella disabilità, cercando di promuovere l'accessibilità in quelli che saranno i luoghi interessati all'iniziativa, è un'iniziativa molto importante. Per cui il Disability Pride, di cui sono fondatore, non poteva far altro che sostenere e patrocinare questa iniziativa. Voltiamo pagina, torniamo a parlare di una dei fiori agli occhiello della Sanità Iblea, il centro di urno per malati di Alzheimer. Perché non sono ancora operativi i nuovi medici che dovevano prendere servizio oggi al centro, dove gli operatori che hanno prestato servizio per 4 anni hanno lasciato il reparto perché era scaduto il contratto a tempo determinato. Le famiglie oggi pensavano di incontrare le nuove figure professionali e per avere chiarimenti hanno incontrato il direttore dell'unità operativa Antonio Virzi, il servizio è di Viviana Sammito. Lasciarli in mano a chi non li conosce, non so cosa succederà. Io non lo so perché la mamma oggi era disorientata, perciò non so cosa succederà. Siamo preoccupatissimi, non sappiamo come finirà questa storia. Soprattutto per i nostri cari, perché i nostri cari cosa faranno? Oggi avrebbe dovuto consumarsi il passaggio di consegne tra gli operatori del centro di urno Alzheimer di Ragusa, ai quali è scaduto il contratto a tempo determinato proprio oggi, con i medici dell'ASP7 che non si sono però ancora insediati. I familiari sono intervenuti perché avrebbero voluto conoscere le nuove figure professionali, ma non è stato possibile. Stamattina il direttore dell'unità operativa complessa di psichiatria, Antonio Virzi, ha riferito che si è presentato solo l'operatore sociosanitario. Lo psicologo è ancora in ferie, ma domani sarà presente De Martino, il responsabile. Il dottore Morando ha individuato intanto un assistente sociale di ruolo per coprire il servizio. Per i tecnici di riabilitazione psichiatrica, il commissario dell'ASP7 di Ragusa, Salvatore Lucio Figari, ha firmato l'avviso per gli incarichi. Il responsabile dell'unità operativa complessa, Antonio Virzi, ha incontrato le famiglie e le ha tranquillizzate sulla continuità del servizio. Abbiamo raccolto la disponibilità da parte dell'ASP nella figura del dottor Virzi a cercare di rendere quanto più indolore possibile questo passaggio di operatori nell'arco di una decina di giorni, di 15 giorni. Noi siamo comunque, rimaniamo preoccupati, raccogliamo questa disponibilità, non vogliamo fare polemica. Saremo molto partecipativi, cercheremo anche di essere più presenti, di accompagnare i nostri cari. Però ecco, la preoccupazione rimane. Speriamo di rivederci in questa sede con delle buone notizie. Ci è stato detto che da domani ci sarà già la psicologa operativa. E adesso parliamo ancora di cronaca, perché su un ubifraccio nel Catanese dei sub hanno salvato gli autisti. La sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, infatti Etneo, impegnata a inviare delle squadre operative per allagamenti e soccorsi a persone e incendi dovuti a un violento temporale che si è abbattuto su tutta la provincia. Attualmente sono 12 le squadre impegnate con 23 interventi espletati e 33 ancora da espletare, come riporta Lanza. I comuni principalmente colpiti sono AC Reale, Masca Lucia, Pedara, AC Sant'Antonio e Via Grande. Il nucleo dei sommazzatori dei Vigili del Fuoco di Catania è intervenuto per il recupero e il salvataggio di due persone rimaste bloccate all'interno delle loro auto in Via Aldo Moro ad AC Sant'Antonio, un intervento ad AC Reale in Via Case Nuove per un incendio al tetto causato probabilmente da un fulmine esondato per la forte pioggia che cade sul Catanese e anche il torrente Svardaselino. L'acqua ha invaso mille metri di strada e inoltre bloccando provocatoriamente il traffico sul posto è presente personale dell'ANAS che ha attivato indicazioni per percorsi alternativi. E cambiamo argomento, parliamo di qualcosa in questo caso molto più piacevole perché è calato il sipario su Miss Contea, un evento dedicato alla bellezza tutta modicana, una serata frizzante presentata da Catiuscia Carpentieri e Salvatore Cannata a vincere il titolo Antonella Cicero, 44 anni, Miss Contea 2018 per la categoria over 40, mentre Alessia Stella di 19 anni è Miss Contea under 30. i dettagli. Uno, brava complimenti, Alessia Stella, Alessia Stella, numero 9, Antonella, Antonella Cicero, brava Antonella complimenti. La prima a 19 anni, la seconda a 44 sono Antonella Cicero per le over 40 e Alessia Stella per le under 30, le due Miss Contea 2018. E' calato il sipario sull'evento dedicato alla bellezza tutta modicana, organizzato e ideato da Daria Rizzone in sinergia con l'agenzia Found di Milano per la quale erano presenti Saro Trovato e Sara Zocco. Un lavoro durato un anno, coordinato dalla responsabile della organizzazione, Serena Belluardo. Il divertimento, ma anche e soprattutto la spensieratezza e la voglia di mettersi in gioco sono stati gli elementi fondamentali con cui hanno partecipato le aspiranti Miss. 15 per le under 30 e 13 per le over 40. Una serata frizzante presentata da Catiuscia Carpentieri e Salvatore Cannata. Insomma, una prima edizione che si chiude col botto, una piazza Matteotti gremita di gente, rimasta fino all'ultimo minuto a dimostrazione che la serata ha entusiasmato i presenti. Intermezzi musicali, poi con un innovoige e Giulia Arturia e la simpatia e le risate di Riccardo Tona, oltre a momenti di romanticismo, con la sfilata di abiti da sposa e da cerimonia che hanno fatto sognare i presenti. E' stato il presidente di Giulia, sarò trovato a consegnare le fasce e i gadget offerti dagli sponsor alle Miss. Me lo aspettavo, grazie alla Giulia, grazie a Serena che mi ha coinvolto, grazie, grazie davvero. Grazie a tutti che siete qua, grazie a tutti, a tutti, a tutti, a tutti. Ma l'evento ha segnato anche altre due fasce, Miss Sorriso e Miss Portamento, rispettivamente per la categoria Under 30, Matilde Maltese e Cristina Cecere per le Over 40. La fascia di Miss Portamento, invece, è andata a Siria Belluardo per le Under 30 e a Marinella Linguanti per la categoria Over 40. A ritenersi soddisfatta per i risultati raggiunti e per la piazza Matteotti Gremita di gente D'Aria Rizzone, organizzatrice dell'evento che ha lanciato l'appuntamento per l'anno prossimo. In archivio l'edizione 2018 della festa in onore al Santissimo Salvatore Ammilitello in Val di Catania. Boom di ascolti per la diretta dei festeggiamenti trasmessi in diretta a Mondovisione sui nostri canali, in streaming sul sito www.videomediterraneo.it e in diretta sulla pagina Facebook di Video Mediterraneo con la conduzione di Sara Donzuso e Ruggero Sardo. Neanche l'incessante pioggia che per più di due ore si è abbattuta su Militello è riuscita a bloccare i festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore. Sabato scorso, infatti, in tantissimi si sono riversati in piazza Vittoria Emanuele e per le vie limitrofe per assistere a una delle feste più belle di Sicilia. Solo qualche variazione di orario. La tradizionale nisciuta è stata fatta alle 19 quando finalmente ha smesso di piovere e la festa è potuta cominciare. Ma dalle 17 in poi, in tanti, approfittando della pausa forzata, si sono recati in chiesa dove tra l'altro si è svolto il rito della spugliata dei picceridi, ossia la svestizione dei bambini per essere benedetti dal Santo Patrono. Poco prima delle 19 poi la benedizione dei portatori e dunque il via al giro per le vie di Militello. Tutti i momenti che le telecamere di video mediterraneo hanno ripreso e portato a casa delle persone, dei siciliani, ma anche dei militellesi sparsi nel mondo. Sara Donzuse e Ruggero Sardo hanno commentato, in una lunga diretta che si è protratta fino a tardanotte, i momenti più suggestivi, intervistando i cittadini, i turisti, i maltesi presenti, perché anche quest'anno è stato fatto un gemellaggio con la città di Lia. Decine di migliaia i messaggi arrivati, così come i contatti registrati sulle pagine social. Oltre 22.000 alle visualizzazioni della diretta su Facebook, oltre 350 commenti arrivati e centinaia alle condivisioni. Oltre contatti sul nostro sito per lo streaming e in televisione, senza dimenticare le telefonate arrivate da ogni parte del mondo. Imponente anche lo sforzo tecnico per non tralasciare nessun particolare e per permettere ai telespettatori di godere di ogni momento, nonostante la pioggia iniziale. Tra i momenti più belli anche i magnifici fuochi d'artificio, quelli diurni all'uscita e nel momento in cui la statua ha raggiunto il Monte Calvario, e poi quelli notturni che sono stati fatti mezz'ora dopo circa che il Santo ha fatto rientro nella sua chiesa. Dunque, ancora una volta, grazie al gruppo di video mediterraneo, alla Sicilia con le sue bellezze e le sue tradizioni, entrata a casa delle persone, soprattutto di coloro che avevano difficoltà a raggiungere i luoghi della festa. Oggi inizia il novenario di San Giovanni Battista a Ragusa. Ieri la Santa Messa che ha visto il ricordo delle vittime di Genova. Al termine della Messa delle 19.30 è stato traslato il simulacro. Come da tradizione, è aperta la nicchia di San Giovanni dopo un momento di preghiera. E poi oggi inizia il solenne novenario scandito dalle sante messe e dalla recita del rosario con i canti eseguiti dai solisti della corale polifonica San Giovanni con l'organo Il Maestro Giovanni Arestia. Il programma completo dei festeggiamenti è disponibile online sul sito della Cattedrale di San Giovanni. Sullo stesso sito, nonché sulla pagina Facebook, sarà possibile seguire in diretta streaming il solenne novenario con tutte le celebrazioni. E vi ricordiamo che il clou dei festeggiamenti il prossimo 29 agosto sarà trasmesso in diretta a Mondo Visione dalle telecamere di video mediterraneo. potrete seguirlo sui nostri canali canale 511 in HD il streaming sul sito www.videomediterraneo.it e anche con la diretta Facebook. Ultimo appuntamento stasera con passeggiate barocche a cura dei professori Paolo Nifosi e Uccio Barone con il sostegno delle fondazioni Grimalde con Fraser Fidi. Dopo Pozzale Scicli si torna a Modica con la tappa Villa Cascino e il suo parco urbano a partire dalle 20. Quarto appuntamento invece sabato scorso al Patapata di San Pieri per un mare di libri aperativi letterari al tramonto Terran ha presentato il suo ultimo e fortunato romanzo Sentimi giunto alla terza ristampa alla presenza anche della giornalista Viviano Assammito il romanzo è un viaggio lungo e pieno di soste scritto sull'ascolto di anime femminili in pena che vagano perché non riescono a trovare pace. I fantasmi di queste donne parlano all'autrice la colpa più grave di Adele la cui storia appunto figlia di Rosa ma non del suo legittimo marito è quella di avere dei capelli rossi come il suo vero padre segno inequivocabile del tradimento della colpa per questo Rosario passerà il resto della sua vita nel tentativo di uccidere la bambina poi ragazza ed è tutto per questa edizione grazie per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie a tutti